I miracoli che si avrebbero nei luoghi di culto occidentali e orientali a cosa sono dovuti? All'inizio sono dovuti alla sensitività o alla medianità di alcuni individui che fondano quei luoghi come luoghi sacri. Poi sono dovuti al culto di milioni di fedeli che alimentano in quei luoghi un'imponente forma pensiero. Infine, i miracoli sono dovuti agli stessi fedeli che, credendo in maniera sovrumana in quei luoghi, si autoguariscono. Allora la divinità non c'entra nulla? La divinità è la fede superumana dell'individuo che anela a trascendersi in Dio. Perché i miracoli non riguardano mai la crescita di un braccio che mangia? Perché l'evoluzione umana non permette ancora un simile miracolo che invece sarà creato dall'uomo superiore.